e ciao ragazzi bentornati sul nostro canale i gamer x ragazzi oggi registro io che sono mattix corazza oppure mattia come mi volete chiamare ma giottix jo oppure fiotto oggi non c'è perché andato a fare un servizio ragazzi questo è il nostro secondo canale joe and matti tv che abbiamo creato principalmente per portare video di calcio quindi gameplay di calcio pronostici delle partite che poi porteremo nella prossima stagione e poi porteremo anche gaming dal telefono quindi giochi di calcio dal telefono tipo come non lo so e anche stumble guys e minecraft dal telefono perché esiste una mod che ti va a mettere minecraft dal telefono e quindi io ce l'ho e porteremo anche minecraft dal telefono quindi ragazzi adesso vi devo dire delle cose non vi preoccupate non è niente di tragico vi dico cosa porteremo sul primo e sul secondo canale sul secondo canale ve l'ho detto già adesso sul primo canale i gamer x cioè questo da cui sto registrando porteremo gameplay dalla playstation quindi come minecraft dalla playstation rocket league dalla playstation che esiste anche dal telefono poi fortnite vabbè quello è il primo gioco che portiamo principalmente poi ci sarà anche battlefront 2 gioco di star wars poi ci sarà anche pes fifa 22 pes 2022 fifa 22 poi oltre questo non potremo altro cioè questo qui quindi ragazzi detto questo mi raccomando abbiate idee chiare su cosa porteremo così non non avrete cioè non sarete confusi quindi mi raccomando ragazzi iscrivetevi ai nostri due canali a quasi dimenticavo come sempre di dirvi di seguirci su tutti i social mi raccomando seguiteci su youtube vabbè i gamer x e joe and matti tv poi su instagram i trattino basso gamer x su tik tok i gamer x trattino basso 55 sono sbaglio si così e poi anche su twitch i trattino basso gamer x trattino basso quindi ragazzi ci vediamo nel prossimo video mi raccomando iscrivetevi al canale lasciate like e e state sensibattivi ciao